Gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, hanno effettuato diversi controlli in luoghi di aggregazione di studenti, tra cui la zona del Pincio, la stazione degli autobus e di passeggi, tutti effettuati in orari diurni, oltre che presso in alcuni esercizi pubblici, svolti invece questa volta nelle ore serali. Durante i controlli diurni sono stati identificati numerosi giovani e sei di questi, quasi tutti appena maggiorenni ma trovati in compagnia di minorenni, sono stati trovati in possesso di stupefacenti del tipo hashish. Nel complesso sono stati sequestrati 50 grammi circa di stupefacente e tutte e sei i giovani fanesi segnalati alla locale prefettura, quali consumatori abituali. Nei controlli serali, mirati invece verso locali pubblici, poliziotti hanno identificato alcuni minorenni intenti a consumare superalcolici in un locale nella zona del Lido. Le immediate verifiche degli agenti hanno portato ad accertare che nel bar oggetto del controllo gli addetti vendevano alcolici senza sincerasi dell'età dei clienti, sebbene alcuni di questi apparissero chiaramente minorenni. Nonostante l'applicazione, in questo caso di una sanzione amministrativa a carico dell'addetto, che era stato sorpreso a versare alcolici ad un diciassettenne, in un secondo controllo nello stesso locale, effettuato pochi giorni dopo, sempre dagli agenti del commissariato fanese, la storia si è ripetuta. Un altro barista veniva colto nell'atto di vendere alcolici ad un minore di 16 anni e pertanto è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Grazie a tutti.